E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qui in Ziava e Nicola Ciao raga Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel piaccio e attivare la campanellina per essere informati sopra nei news del mio canale Vi lascio al video Oggi Andremo a vedere il nuovo segreto della caverna Una stanza segreta, non vi spoilerò niente Ho rotto tutto Iscrivetevi al canale E' troppo lontano Nico, non bisogna andarci là Nella prossima partita andiamo No vabbè, noi siamo very king e ci allungiamo Se facciamo mille iscritti che faremo? Se grazie ai nostri fan faremo mille iscritti Una festa di compleanno Invito tutta la casa E se arriviamo ai 60 iscritti fai una live Una bella live, quindi affrettatevi Stavo giocando a calcio Mi sembra che uscirà domani O sarà questa la live? No Domani Non lo so Domani siamo fuori Ah, non vi dovete perdere il nuovo video Domani uscirà un video bellissimo Ah, è vero raga Non mi spoilerò niente Ma se non ti ricordi Sì, mi ricordo Uscirà o a Capcute o una bella live Di quelle belle Fra, ma vi spoileriamo quello che c'è? No Ah, ok Chi spoilerà muore ora E' una cosa super bella Che sanguiz? Che sanguiz? 2000 years later Six and a half hours later A few inches later Day 2 Day 3 Day 4 A few moments later One eternity later Three days later Twelve seconds later 3.28 a.m. Three weeks later Many months later So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Tomorrow Tomorrow for sure Eventually 12 o'clock midnight Two hours later Meanwhile 8.01 p.m. The next day Later 20 minutes later Six hours later Several bad puns later One hour later Two hours later Three hours later Can you move it along? I'm all out of time cards Hashtag mi diverto Hashtag sono felice o Hashtag non sono felice O Hashtag mi diverto a giocare Perchè giocare? Perchè forse giocare con la pappa Perchè la c'è non uno che ha ingrezzato I can't remember Oh come on your는 please Sie code Oh whatever Sdeep Come on look protege Sсе throwing Heard I think we're going this way Three hours later Four hours later Three hours later Both of us Ashtag Four hours later wid Four hours later Oh come on Oh come on You got on One hours later So you got on Eve看一下 ragazzi non potete capire salvataggi in estremis stavo cadendo dalla sopra mi sono salvato no ma ma secondo te come mi sono salvato con la già no ho cliccato tante di quelle volte la x che mi sono arrambicato sul muro chi allora nico si è intelligente nico scendiamo sotto da dove è l'ingresso di sta caverna c'è gente l'ho vista si vede si sente gesù è qui presente dove a scuola tu fa no il zivi tu si se non sei molto annacchierato fornit si però se questo qua amore fornit funziona benissimo perché quando c'è lui si sbaglia c'è gente che nuota nico vogliamo uccidere pure a quello la a gunnar eh calipso boh armetta mia però ho trovato il jackpot ma lo stai sparando a gunnar no mi stanno sparando a me a gunnar ma lo uccidiamo nico dovrebbe essere lì ma si dice gunnar o guca buh o gucar o gular nico vai a vedere dall'altro lato si però io sto accelendo a tutto qua no io non ci vado a vedere boh sarà da no vai a vedere mi sembra che vai a vedere la cassaforte che solo questo è il lavoro tu ci sono le guardie alla cassaforte Rai eh ci sono le guardie e qua gunnar da me si questo qua bell'uomo togliti preciso bravo 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 squaglialo full ucciso morto mi dai la carta no non ci preoccupi yeah andiamo alla cassaforte andiamo da qui si va lo so nazio non entrare ancora chi entra sento di me brut è rientrato no si da qui si va esatto nico ci so giocare ancora a fortnite per me no scherzetto si è come e fra guarda tu giochi dalla season 1 nico nazio nico andiamo indietro andiamo indietro oh gli airdrop sono miei io ne ho aperto solo uno e tutti e due erano miei perché i colpi mi servono a me mi dai i colpi di cosa la safe fai se splash si va si va si va si va da qui macchina andiamo andiamo la macchina c'è il carro no c'è questo qua è meglio va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto da carato 10 out iscriviti al canale